Guardate, io comprendo le critiche, comprendo le polemiche, comprendo anche che il sistema della stampa locale è fondato un po' sullo show business, bisogna a volte costruire anche notizie, a volte anche false, per vendere una copia in più, per provare a vendere uno spazio pubblicitario in più. Però a tutto ciò il limite, quando poi si travalica il limite del rispetto dei ruoli e anche il limite del rispetto delle persone, noi veniamo da anni in cui spesso la politica è andata a braccetto con i giornalisti, spesso c'è stata complicità, perché per evitare di essere attaccati, o meglio anche per far sì che ci fosse un titolo in prima pagina in più, che ci fosse un commento positivo, la stampa è sempre stata assecondata, per certi versi, io ricordo anche episodi in cui c'era il direttore di turno, che chiamava il politico di turno, per dettargli la linea, si è arrivati a questo livello di complicità, chiaramente questo mondo, questo contesto, da quando sono arrivato io alla guida del comune, è finito, è crollato il castello. Ragazzi, io sono nato per cambiare le cose e anche per cambiare questo sistema, questione relativa alla costituzione di parte civile del comune di Avellino nel processo al clan partenio. Ascoltatevi bene, io non ho mai detto che non ci saremo costituiti, lo ribadisco, non ho mai detto a nessuna testata giornalistica, mai dichiarato a nessun giornalista che non ci saremmo costituiti parte civile nel processo. Vi dico di più, noi non solo se ci fosse stato il processo venerdì ci saremmo costituiti, ma poiché era noto al mondo che sarebbe stato rinviato perché da giorni purtroppo l'avvocato è diciamo alle prese col covid, noi ci costituiremo il 20, il 30, il 7 dicembre, quando ci sarà il processo, noi ci costituiremo, cosa che ho già stabilito, da oggi per almeno un paio di mesi, io non parlerò più con la stampa, non gli fornirò più la possibilità di mistificare le mie dichiarazioni e di utilizzarle strumentalmente. Sì. Sì.